Al Tribunale di Ancona si è tornati oggi in aula per il processo relativo all'omicidio di Marcello Bruzzese, ucciso il giorno di Natale 2018 in pieno centro storico a Pesaro davanti alla sua casa di Via Bovio dove viveva sotto copertura. Un omicidio che scosse la comunità pesarese al cospetto di un'esecuzione in stile mafioso nel giorno festivo per eccellenza. La sentenza inizialmente prevista per oggi è slittata al primo giugno dopo che in aula questa mattina ci sono state tre ore di udienza dedicata alla tesi difensiva dei due presunti sicari Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi. La procura ha chiesto l'ergastolo per i due accusati di essere responsabile dell'uccisione di Bruzzese davanti all'ingresso della sua abitazione pesarese esplodendo 30 colpi d'arma da fuoco la metà dei quali andati a bersaglio. Una vendetta trasversale nei confronti di Marcello Bruzzese che aveva la sola colpa di essere il fratello di Biagio Girolamo Bruzzese pentito di indrangheta. Secondo l'accusa Tripodi e Candiloro avevano base a Rimini dalla quale si spostavano a Pesaro con continui appostamenti. Per gli avvocati difensori si tratta di un processo basato su ipotesi prettamente indiziarie giudicando lacunoso l'impianto di prove accusatorie nei confronti dei due imputati sia sulla base delle riprese di videosorveglianza nel centro di Pesaro sia sull'esame delle schede telefoniche utilizzate. Il primo giugno la procura esporrà le sue conclusioni.